un caro saluto agli ascoltatori di radio radicale a cui per la rubrica albania italianofona oggi ospite del nostro programma e professor antonio foglio che parliamo della realtà di immigrazione italo albanese però di una realtà che va oltre diciamo il mondo particolare italo albanese poiché tutto il mondo è un paese come dice l'antico detto latino professore grazie per aver accettato questa intervista il piacere anche per me intanto lei ha pubblicato un libro che propone un nuovo ordine etico economico al mondo poiché il mondo sta soffrendo di tante cose e serve un nuovo sistema globale per stabilire tantissime cose però a questo punto un argomento che a me mi sta al cuore che immigrazione poiché come l'italia è una nazione di immigranti di emigranti che ha fatto portare al mondo tanti emigranti italiani e sta ricevendo altre tanti ecco parte di questa storia sono anche albanesi io vorrei che lei fa proporre al mondo anche la soluzione che te proponi per l'immigrazione così che vorrei ascoltare la tua proposta al riguardo immigrazione allora anzitutto sono ben contento di parlare con l'albania e con gli amici dell'albania che stimo e vorrei subito dire che non farò una disquisizione accademica nonostante i libri che ho scritto e per dire che andremo alla concretezza voglio dire che io ho vissuto in maniera molto diretta il problema dell'immigrazione che mi ha portato a dire che è una delle leve strategiche se vogliamo migliorare il mondo allora perché perché voglio parlare in maniera concreta primo perché nella mia famiglia mio nonno nel mille esattamente cento anni fa emigrava in america come tanti altri italiani bravo è emigrato in america aveva sette figlie tra cui mia madre che doveva mantenere all'università a scuola ha chiuso bottega a giovinazzo provincia di bari ed è andato in america ed è stato in america per cui diciamo che io poi parlando da bambino andavo il nonno mi raccontava e ho sempre avuto questo diciamo questa intenzione vedere questa gente che si sacrificava ecco per cui direi un primo contatto poi secondo contatto non faccio un discorso accademico ho fatto anch'io l'immigrato quando ero universitario e ho vincevo le borse di studio e l'università mi dava la borsa di studio ma mi durava una settimana due settimane e come facevo a stare un anno e allora mi sono fatto un anno a exeter in inghilterra facendo il cameriere e suonando il pianoforte nelle ore del te e ho vissuto proprio la vita da emigrato sono andato poi in germania sono andato poi in germania e in germania anche lì andavo all'università di tübingen però ti devo dire la verità anche lì i soldi della della borsa di studio della bocconi non erano finiti e ho fatto parecchi mesi in una industria metallmeccanica ti dico anche il nome la montanverc di tübinga ecco per cui ho conosciuto tanti immigrati andavo la domenica a mangiare nelle loro baracche per cui non è il professore che si mette ecco perché ci disse allora capire chi ci ascolta che un professore di oggi di grande diciamo spicco di 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 grande proposte che fa al mondo viene di origine immigrativa è importante questo poiché il mondo il mondo occidentale si sta affrontando una crisi tremenda della stessa storia no è così è vero è vero io ho capito in tutto questo percorso in tutti i libri che ho scritto insegnando facendo il dirigente di azienda ho capito che l'immigrazione è una leva strategica per migliorare il mondo per lottare contro le povertà per lottare contro le diseguaglianze per lottare contro le ingiustizie per lottare contro la fame e la malnutrizione perché è una leva strategica che porta al lavoro porta solidarietà porta migliori relazioni internazionali porta benessere porta salute porta il bene comune porta quel coprogresso che io voglio per il nuovo ordine economico internazionale e allontana allontana le guerre ecco allora di qui il mio il mio progetto cioè noi abbiamo avuto l'onu che ha proposto di migliorare il mondo ma qui non ci siamo non ci siamo e soprattutto e soprattutto non ci siamo perché c'è tre miliardi di persone che non vivono dignitosamente e l'immigrazione è un punto di riferimento ecco perché il mio progetto di nuovo ha una particolare attenzione noi oggi nel mondo abbiamo 70 milioni dobbiamo fare qualche numero per mettere a fuoco la situazione abbiamo 70 milioni di persone che sono pronte ad emigrare sto parlando del mondo dall'altra parte nei nostri paesi abbiamo bisogno attenzione a quello che dico per esempio in Europa vuoi per la crisi demografica eccetera abbiamo bisogno di 12 milioni di persone che vengono a lavorare in Europa perché se no non ci saranno più i soldi per pagare le pensioni di quelli che oggi sono in pensione per cui il discorso non va visto solo in chiave diciamo così di pietismo eccetera va visto anche in chiave strategica in chiave strategica per cui diciamo che bisogna vedere in in chiave strategica globale o transnazionale poiché guardando le crisi al limite nazionale sicuramente non si trova la soluzione invece lei propone una strategia globale transnazionale che porta sia al mondo povero in via di sviluppo che al mondo sviluppato una soluzione no? praticamente i problemi da risolvere sono problemi di povertà di sottosviluppo di mancanza di lavoro di mancanza di reddito di vita non dignitosa ma anche se sono dei problemi di carattere demografico che bisogna prendere in considerazione con molta razionalità ecco allora una particolare attenzione a questo problema che non è mai stato risolto si continua a parlare discutere eh l'unione europea l'ONU si combatte tra i stati anche caso Italia caso Europa si combatte poiché ogni paese fa trasferire responsabilità all'altro questo è il vero problema allora mettiamo alcuni principi fondamentali e poi passiamo al progetto primo principio fondamentale che tu sai benissimo per me è la base anche di tutto il mio libro chi nasce ha diritto ad una vita dignitosa punto e basta vive in Africa vive in America vive nel lusso di New York tutti hanno diritto a una vita dignitosa secondo diritto tutti hanno il diritto di non emigrare cioè di stare al loro paese e di avere una vita dignitosa del loro paese terzo diritto laddove non si può osservare questo diritto c'è anche il diritto di emigrare per cui questi tre principi ci mettono subito in movimento un progetto un progetto che lo devono affrontare ma non solo i paesi poveri lo devono affrontare i paesi ricchi perché è proprio su questo progetto allora incominciamo a vedere un po come impostare qui ci vogliono delle caratterizzazioni di umanità di solidarietà di responsabilità di progettualità di pragmatismo di efficienza e di strategia e di strategia allora io faccio adesso una considerazione come italiano il più grande cimitero che oggi noi abbiamo intorno all'italia si chiama il mare mediterraneo ci sono 26 mila morti ci sono 26 mila morti nel 2021 sono morte 1500 persone ma dico ma unione europea svegliati unione europea per carità sveglia e basta parlare questi consensi ma ministro anche degli esteri dell'italia ma diamoci da fare andiamo con un progetto parliamo scriviamo il progetto facciamo dieci pagine quindici pagine e andiamo a dibatterlo organizziamo un summit ormai l'immigrazione è un problema con cui dobbiamo convivere ma non in questa maniera la giornata le barche che affondano le persone 26 mila morti nel mare mediterraneo poi attenzione io non ti dico i morti che ci sono anche dall'altra parte nel messico per andare negli stati uniti eccetera adesso non voglio parlare di quel discorso allora qui ci vuole un progetto ma il progetto non può essere italiano no il progetto deve essere mondiale perché io poi dopo alla fine voglio fare una proposta anche alla albania ci vuole un progetto che coinvolga tutta la comunità internazionale i governi singolarmente i governi insieme per cui si tratta di attivare quelli che sono gli accordi bilaterali ma anche gli accordi del multinazionale risvegliare le organizzazioni internazionali abbiamo delle organizzazioni internazionali che non affrontano minimamente il problema della dell'immigrazione quando invece oggi è il problema assolutamente un grado di importanza assoluta allora il progetto parte da due concetti fondamentali fare migrare con efficienza o portare il lavoro nei paesi nei paesi dove ci sono le forze lavoro allora i migranti dove c'è il lavoro e allora portiamo gli immigranti a un certo punto li portiamo in italia li portiamo in germania in francia negli stati uniti non devono essere loro qui deve scattare l'organizzazione io ho studiato molto bene l'immigrazione in canada e in australia perché ho avuto tanti studenti quando insegnavo l'università di villius che emigravano in canada e l'ambasciatore mi interpellava ma questo ragazzo ragazzo in gamba questa ragazza merita di andare di qui perché davano la mia referenza bisogno intervenire con le ambasciate l'ambasciata del paese ospitante sul luogo in cui esiste e non gli scafisti queste queste persone che migrano dal via antiproibizionista allora tu pensa un pochettino questo il mio progetto l'italia dice io quest'anno l'italia ha sentenziato adesso qui si bisogna un pochettino anche andare un po in profondità nei problemi ma non lo voglio fare ci sono dei lavori a tempo indeterminato poi ci sono anche dei lavori che possono fare gli emigrati non so durante l'estate tipo quello che è l'agricoltura però adesso dobbiamo fare un discorso basta allora l'italia dice io ho bisogno in un anno di 82 mila persone che vengono a lavorare a tempo indeterminato e ho bisogno invece che vengono in italia a lavorare a tempo determinato tre mesi 260 mila persone allora capisci questo discorso lo dai in mano anzitutto al ministero degli esteri dell'italia che deve organizzare bene la raccolta di questi dati e poi sulle ambasciate le ambasciate attraverso dei discorsi eh così ufficiali comunicazione eccetera e diciamo rappresentante del governo così che ha i suoi canali a questo punto questi non devono più attraversare tutta l'africa il deserto del sahara prendere gli scafisti partono in aereo partono in aereo arrivano in italia allora in italia bisogna organizzare a tempo determinato coinvolgendo le aziende che ne hanno bisogno convolgendo anche il paese facendo un ministero della immigrazione poi vedrai le proposte che farò allora a questo punto si organizza questo discorso arrivano arrivano molto probabilmente da soli e poi scatterà anche il meccanismo della della congiunzione familiare però non devono arrivano in modo legale è importante non arrivano in modo illegale arrivano in modo legale questo è importantissimo ma io prima che in modo legale direi in modo umano anche in modo umano che un certo momento questi vengono li vanno a prendere all'aeroporto li portano in una casa in un appartamento li portano in una residence e cose di questo tipo e l'italia in questa maniera mette al sicuro le pensioni di tutti gli anziani perché arrivano a della gente forza lavoro a coordinata allora attenzione io sto parlando dei paesi in cui è possibile fare questo discorso però c'è un altro tipo di immigrato mi dirai l'ho proprio approfondito immigrazione dei paesi nei contesti di guerra loro sono profughi non sono emigranti capisci che là non ci sono le ambasciate non ci sono le ambasciate e qui devono scattare le organizzazioni internazionali giusto e qui deve scattare l'onu con delle sue organizzazioni che ha anche le ngo non soltanto certo allora l'alto commissario dell'onu che a un certo momento organizza e dice quelli che sono in guerra invece arrivano a lavorare li portiamo però è chiaro che c'è un trattamento diverso da quello in cui va l'ambasciata e porta poi la sua famiglia quello che in guerra perché qui sono i principi anche della carta dell'onu che dice che gli immigrati in guerra hanno bisogno ad essere riconosciuti come dei rifugiati capisci per cui qui il discorso allora cosa vuol dire questo primo progetto di portare gli immigrati sicuramente questo serve come un anteprima diciamo perché lei ha scritto un intero libro cioè un dietro un lavoro immenso noi tramite un'intervista proponiamo a tutti quelli che ci seguono a tutti quelli che hanno le competenze l'anteprima del tuo progetto poi per concludere lei mi ha parlato di una tua idea personale come è anche diciamo la tua proposta al mondo che serve organizzare un grande convegno internazionale al riguardo immigrazione facci capire cos'è questa idea che ha a che fare anche con la realtà italo albanese dunque albania allora mi devi permettere di dire ancora una cosa prima io prima ti dicevo portare il lavoro dove ci sono i migranti portare in italia ma portare anche il lavoro là dove c'è la potenzialità degli emigranti e che questo discorso è un discorso che andrebbe un momentino approfondito le aziende sistema di accoglienza modalità di immigrazione eccetera io penso che qui bisogna fare delle proposte concrete allora incominciamo prima a fare la proposta prima di farla all'albania facciamo la proposta al mondo prima proposta ci vuole un codice universale per l'immigrazione che non esiste tutti i paesi devono un certo momento avere un codice universale come la carta dei diritti umani e questo è il primo discorso secondo ci vuole un garante internazionale dell'immigrazione non basta l'onu che fa tutto perché lo fa male vediamo il nuovo ordine tigromico internazionale che casino che c'è in aria allora necessità di un garante internazionale terza proposta mondiale il garante dell'immigrazione in ogni paese coordinati dal garante internazionale e questi devono gestire il problema dell'immigrazione arriviamo al dunque di questa intervista ci saranno altre professori allora la mia proposta sarebbe quella di un impegno da parte dell'albania che è stata un paese che ha vissuto in maniera diretta e oggi in diretta anche l'immigrazione per fare un summit globale sull'immigrazione a tirana a tirana l'albania che ha vissuto il problema dell'immigrazione lo sta vivendo ancora ma perché non facciamo un summit globale un paese fanno i summit a davos ma ci vanno i ricchi a davos questa tua proposta come una proposta di professore antonio foglio al premier di tirana e di rama e lui che deve considerare e sicuramente dare una risposta perché questa intervista è un'intervista pubblica che capisci la proposta le proposte sono valide non quando partono dall'alto le proposte sono valide quando partono dalla base loro un paese come l'albania che ha vissuto in maniera molto molto umana molto diretta questo problema e noi italiani lo sappiamo benissimo si fa si candida a realizzare un summit globale qui quando si parla dell'immigrazione si parla a davos ma davos si parlano i ricchi ma i ricchi devono salvare se stessi non devono salvare gli immigrati e allora chiamano qualche accademico però gli accademici che hanno delle proposte concrete che vanno anche contro il capitalismo perché vogliono il cocapitalismo non le invitano mica evidentemente capisci allora io direi qui ci vuole una bella proposta fatta da un paese concreto giovane che ha vissuto e questo potrebbe essere un summit un summit globale sulla proposta e lo apriamo a tutti quanti io sono il primo se lo fate io ci vengo ci vengo amichevolmente proprio perché ne abbiamo assolutamente io lo faccio con il mio libro prometto tramite diciamo microfono di radio radicale che farò sì che mandare la tua proposta al premier Edirama poi vediamo cosa succede intanto ti faccio i miei ringraziamenti per il lavoro che fai per questa intervista e sicuramente ci sentiremo per altre interviste la ringrazio professore ringrazio io voi un saluto a te Artur e a tutta l'Albania e da a Tirana per Radio Radicale Artur Noor